Va nel solco del lavoro che stiamo compiendo su Bagnoli, quindi rimane la nostra posizione ferma e chiara sul commissariamento di Bagnoli, quindi nei confronti di quella cabina di regia noi non ci siamo e non ci staremo, ma nello stesso tempo, come abbiamo sempre fatto, noi siamo per il no a determinate cose che abbiamo ben spiegato e per l'immediato inizio della riqualificazione di Bagnoli. Lo abbiamo dimostrato con i fatti predisponendo un piano, le linee di indirizzo sono state approvate dal Consiglio Comunale e abbiamo discusso in città. Quindi noi adesso siamo passati alla fase 2, cioè dopo aver messo e consolidato le postazioni della resistenza contro un'occupazione illegittima della democrazia di prossimità, siamo passati alla fase 2 che è quella di spiegare, raccontare e diffondere in città il nostro piano e come è giusto che sia rappresentando noi le istituzioni democratiche sottoponendolo all'attenzione delle altre istituzioni interessate sulla vicenda Bagnoli, che sono il Governo nazionale e il Governo regionale. Quindi ho scritto tre distinte lettere, la prima inviata al Presidente del Consiglio, la seconda inviata al rappresentante del Governo che il Presidente del Consiglio ha delegato su Bagnoli, che è De Vincenti, quindi come sottosegretario e non come Presidente della cabina di regia, che noi non riconosciamo, e al Presidente della Regione, De Luca. La cosa più bella sarebbe, visto che noi amiamo molto la democrazia di prossimità e il coinvolgimento dei cittadini, sarebbe fare un incontro a Bagnoli. Quindi trattandosi di un incontro istituzionale, la Municipalità ci sembra il luogo più idoneo. Abbiamo indicato anche Palazzo San Giacomo, che è la sede del Comune, del Sindaco che è stato eletto democraticamente quasi cinque anni fa, e qualora, ovviamente, trattandosi dell'autorità istituzionale più rilevante, il Governo si può fare in Prefettura, o in qualunque, ribadisco, luogo che ritenga il Presidente del Consiglio. Noi del nostro piano siamo disponibili di venire a parlare a Roma, di parlarne in Toscana, di parlarne a Palermo, ovunque vogliano. Quindi noi siamo per entrare finalmente nel merito, quindi che il Governo faccia presto la bonifica secondo le procedure ordinarie e che si parte immediatamente con il rilancio di Bagnoli. Noi abbiamo un piano, se vogliamo entrare nel merito della discussione siamo pronti, ogni piano è perfettibile, e quindi siamo, come sempre, abbiamo dimostrato pronti al dialogo e pronti a assumerci le nostre responsabilità. E vediamo appunto che cosa verrà fuori da questa lettera che ho inviato ieri al Presidente del Consiglio, al Presidente De Luca e al Sottosegretario De Vincenti.